e l'ho detto anche prima non fate i furbi Pinocchio vieni qua, ti croco Pinocchio Pinocchio non mi fai correre che son vecchio dai, vieni qua Avrete capito Avrete capito sicuramente a cosa c'era che avevo detto, non fate i furbi, dopo mi interrogo Le avventure di Pinocchio E' uno sceneggiato televisivo diretto da regista Luigi Comencini Fu trasmesso per la prima volta dalla televisione italiana sul programma nazionale nell'aprivo del 1972 La celebre colonna sonora fu composta da Fiorenzo Carpi e ha avuto un notevole successo e verrà stasera riproposta dal complesso La Marinara di Forte dei Marmi con a dirigere il maestro Peppe Ves... Maestro Andrea Belluomini Applausi Grazie 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 Veramente, veramente, veramente piacevoli da ascoltare. Bene, questo primo blocco è concluso e io richiamerei... Non è vero, non è concluso. È uno scherzo. Sì, dove sta qua? Ciao. Pinocchio! 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 Chi mi chiama? Sono io. Hai fame, vero? Se Geppetto fosse qui, saprebbe come sfamarti, ma purtroppo è in carcere per colpa tua. Chi sei? Cosa vuoi? Sono un grillo e abito in questa casa da cento anni. Adesso vattene, è casa mia e io ci faccio quello che mi pare. Perché ridi? Povero grullerello, ma non sai che facendo così diventerai un grandissimo somaro? Ricordati cosa hai promesso alla fata. Chietati, grillaccio del malaugurio. Per tua regola, tutti quelli che si comportano come te finiscono presto o tardi in prigione o all'ospedale. Ora sì che mi hai stufato. Ora non parli più, eh, grillaccio. Grazie. 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 Sono bambino, il burattino è morto!